Tutti a rapporto dal sindaco di Sulmona, Peppino Ranalli. Il primo cittadino ha convocato per domani alle 17 a Palazzo San Francesco i sindaci del territorio per porre in essere una serie di proposte per il rilancio del centro Abruzzo, partendo dalla delibera dell'aggiunta regionale tematica del 21 giugno scorso che ha definito l'area del centro Abruzzo area di confine vista la sua particolarità geografica. È il momento di passare i fatti alle proposte, spiega Ranalli, con tutti gli amministratori del territorio, i sindacati, e le associazioni di categoria, dobbiamo pensare a un percorso comune di crescita e di sviluppo. Ranalli preve l'acceleratore sul fronte della sanità. Ho convocato anche i sindaci di Popoli e di Castel di Sangro perché miro ad allargare il bacino di utenza del nostro ospedale. Il decreto Lorenzin parla chiaro, tuona Ranalli. All'incontro di domani all'aula consigliare del comune di Sulmona sono stati convocati tutti i sindaci della Valle Peligna, della Valle del Sagittario, della Valle Subequana, dell'Alto Sangro, di Popoli, il presidente della provincia dell'Aquila, Antonio De Crescentis, il sindaco di Pratola, il consigliere regionale Andrea Gerosolimo, il presidente del Tribunale di Sulmona, Giorgio Di Benedetto, il vescovo di Sulmona, Val Vangelo Spina, le organizzazioni sindacali e le associazioni di categoria.